Sì, soprattutto l'unica partita che magari non abbiamo concretizzato di più è stata contro la Fiorettina, non abbiamo creato tanto, però le sensazioni erano molto buone da prima e si vede che la squadra c'è e penso che gli abbiamo fatto una prestazione perfetta su tutti i punti di vista. Grazie.